Sono contento, non vedo l'ora già a livello è così, io con gli schermi che controllo tutti i villaggi, non vedo l'ora Droni ovunque, ovunque, con la mia voce come Di Becca vi dirà che cazzo, dove cazzo vai, torna a casa Questa sarà la voce del dronio Non si esce, questo è l'ordine del sito di De Luca e basta Di becco uno a uno Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco di passare un po' Non si esce da casa, nel passio, nel babbino, non si esce Questo è l'ordine del sito di De Luca e basta Dove cazzo vai, torna a casa Caccia il culo Ecco qual è il modo per far applicare le norme Non si esce, questo è l'ordine del sito di De Luca e basta Non si esce da casa, nel passio, nel babbino Non si esce, questo è l'ordine del sito di De Luca e basta Dove cazzo vai, torna a casa Caccia il culo Ecco qual è il modo per far applicare le norme Non si esce, questo è l'ordine del sito di De Luca e basta Arrestatemi pure Chiaro Grazie a tutti Grazie a tutti